come avrete potuto vedere sul nostro canale youtube con un video dedicato abbiamo avuto la fortuna di mettere le mani su un tris di accessori tech realme veramente molto interessante dopo averveli mostrati anche sul nostro profilo instagram la maggioranza dei vostri commenti e domande era incentrata su di un modello in particolare dei tre ecco quindi perché dopo 48 ore di utilizzo sono pronto a raccontarvi in quest'anteprima in attesa ovviamente della recensione completa questo realme watch iniziamo subito questo racconto preliminare primo contatto dopo aver commentato insieme l'esperienza di unboxing quindi mi sono dedicato alla configurazione vera e propria del realme watch con il mio smartphone qui si deve fare già la prima e doverosa premessa questo articolo visionabile alla pagina dedicata sul sito dell'azienda non è ancora ufficialmente disponibile pronto all'acquisto per il nostro paese questo comporta che ci siano ancora alcune finezze e migliorie da apportare all'interno del prodotto stesso e dell'ecosistema che realme sta cercando di creare attraverso proprio la sua applicazione proprietaria realme link proprio questa applicazione infatti che dovrà diventare il centro nevralgico per unire tutti i prodotti accessori tech dell'azienda al momento non risulta disponibile per il nostro territorio attraverso il google play store poco male comunque procedendo all'installazione della stessa tramite apk le funzionalità sono garantite e riuscirete ad effettuare tutte le configurazioni del caso proprio come ho fatto io confido che nel breve periodo anche questa piccola problematica possa essere risolta senza troppi intoppi comunque materiali e sensazioni preliminari detto dell'applicazione area nella quale torneremo a breve mi voglio soffermare ora proprio sul realme watch in sé una volta acceso ci troviamo davanti ad un display frontale in tecnologia lcd e non oled che raggiunge ottimi livelli di luminosità però certo le cornici non sono propriamente ottimizzate per una prima impressione che mi ha fatto tornare alla mente il periodo di gloria di amazfit beep la relatività al touch mi è sembrata molto positiva senza criticità da segnalare menzione d'onore al cinturino non tanto per i materiali silicone standard ma per il fatto che la linguetta possa essere agganciata in stile apple watch senza quindi avere il rischio di ritrovarsi con parti penzolanti al polso inizio a dirvi inoltre che la vibrazione area secondo me fondamentale di questi prodotti è settabile su tre livelli diversi bassa media ed alta in tutti i casi però non mi sono trovato con una sensazione propriamente piacevole anche se devo dire che è impossibile perdere le notifiche visto che anche su intensità bassa il feedback è bello potente software e app ovviamente approfondiremo questo discorso meglio in sede di recensione qui mi limito a dire che lato smartwatch ci troviamo con tutto quello che vi potreste aspettare da un prodotto che vi vuole accompagnare nel fitness e nella ricezione delle notifiche per quanto riguarda gli sport sono molteplici le attività che l'orologio è in grado di riconoscere e mappare lato notifiche tutte le applicazioni che sono residenti su smartphone possono essere rimandate al proprio polso simpatica l'opzione che permette di ricevere le notifiche sul watch solo se il display dello smartphone è in standby l'applicazione su smartphone invece superato il ragionamento fatto all'inizio è piacevole e completa seppur manchi ancora qualche traduzione sul watch attualmente l'unica lingua oltre il cinese e l'inglese devo dire che l'interfaccia è bella e piacevole il menu principale ci mette davanti i nostri dati legati ai passi effettuati al battito cardiaco e dal sonno dell'affidabilità di questi dati vi racconterò ovviamente più avanti dopo più giorni di utilizzo mi limito quindi a dire che questa grafica è secondo me il secondo segnale insieme alla nuova real mi ui da smartphone che l'azienda stia veramente lavorando bene nel cercare di donare agli utenti una grafica piacevole e completa batteria presto anche qui per sbilanciarsi in confezione vengono indicati come dati di autonomia fra i 7 e i 9 giorni continuativi in base alla frequenza con le quali andremo a registrare i nostri dati cardiaci e alle attività sportive che andremo ad effettuare dati che se confermati potrebbero rendere questo prodotto veramente molto interessante per tutti coloro la ricerca di un notificatore da polso con un bel display per quanto mi riguarda una volta ricevuto non l'ho ricaricato utilizzandolo direttamente tirato fuori dalla scatola siamo a circa 48 ore di utilizzo e dal 50 per cento circa con il quale l'ho trovato acceso mi ritrovo ora il 15 per cento attenderò la scarica completa per poi testarlo al 100 per cento e raccontarvi i miei pensieri finali in sede appunto di recensione a a a